...e diretto a Roma Termini, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. ...e diretto a Roma Termini, arriverà con un ritardo a Roma Termini, arriverà con un ritardo a Roma Termini, ...e diretto a Roma Termini, arriverà con un ritardo a Roma Termini, arriverà con un ritardo a Roma Termini, ...e netto a Roma Termini, per quedar senza tirozza a Roma Termini, che doveva andare a attentare a una resciaiones tietamone per ora,